ciao ragazzi oggi vi mostro come costruire una vespa prendiamo una pallina di pulistirola, l'appiattiamo con le dita e la infiliamo nel lama poi prendiamo del teflon e lo agganciamo nella parte posteriore del lama avvolgiamo il teflon lungo tutta la pallina per creare il corpo della vespa una volta realizzato il corpo andiamo a pitturarlo con un pennello giallo prendiamo un pennello nero e dipingiamo le annellature della vespa terminato il colore utilizziamo la collovi aiutandoci con uno spillo di montaggio andiamo a cospargere la colla lungo tutto il corpo della vespa prendiamo una striscia di foam nero la seriamo nella parte anteriore del lama prendiamo una pallina di polistirolo e la mettiamo dentro un tessuto delle calze delle donne ora con delle punte di acryl grizzly andiamo a realizzare le ali posizionate le ali e sistemate andiamo a dividere il filo di montaggio prendiamo delle punte di cervo nero e le inseriamo nell'asola con l'aiuto delle dita rotoliamo il filo di costruzione per rendere il cordoncino compatto e uniforme quindi avvolgiamo tutto il preparato prendiamo la striscia di foam e la dirigiamo in avanti prendiamo del dubbing nero e lo rotoliamo in tutta la parte anteriore del lama terminato tutto chiudiamo con un modo di chiusura con l'aiuto di uno spillo riscaldato andiamo a sistemare le zampe grazie a tutti Grazie a tutti.